il prosecco c'è l'inflazione ma questo è ottimo rimangono anche più buoni insaporiscono però sempre in frigorifero perché c'è la maionese sempre mangiate bene e il peggio danni ci riprende d'accordo Morena? d'accordo, d'accordo chiudete la bocca non parlate con la bocca piena questi che sono per dire? fissate con il zucchino con lo specchio e il filo a destra l'operatore non vuole mangi mangi, mangi non riesce più sempre la frangia quindi non mi dà problemi mi hanno messo con la frangia la frangia la frangia ecco il colbacco l'ho provato ma non l'ho comprato poi stavamo ridicato solo a provarlo c'era la commessa russa che era piena zippa di roba con il colbacco, la villiccia ecco qui olio d'oliva che fai? prepari sette ecco il succo meraviglioso ci godremo il tavolo degli gnocchi inquietna eccolo лам Chi ci vuole un po' di pecorino, io secondo me non ci va, non ci va, comunque. Manca uno qui, c'è massa? Io lascio già in posto a Giampiero, Giampiero? No, vabbè io sto qua. No, prendiamolo già. Ma è la stessa cosa. E l'altro si sta in posto in giù? Si, c'è un posto in giù. L'altro si sta in posto in giù. Si prendano. Ma una piccola ripresa. Non si vuole. I registi sono fatti così. I secondi. Morena, quali sono questi secondi? Allora, i secondi sono me. Elisabetta che ha fatto il tacchino. Dov'è il tacchino? Eccolo, questo qui. Milena. Poi ci sono i peperoni. Milena ha fatto il pollo con peperoni. E quello che cos'è? Questi sono, te lo spiega bene. Ah, la misciuia. E' la misciuia, la misciuia che ha fatto Antonietta. Misciuia. Eccoci, scacciamosche. Questa solo? Questa solo. Sì, dimmi. Milena, scaccia le mosche. Pani, sì. Andiamo, ecco. Mettetevi insieme a scacciare le mosche. Sennò non c'è così. Giovanni. Mi raccomando. Filma le scacciamosche. Sai, andiamogli a giocare alla reazione a catena. Ci hanno tutti i nonni, hai visto? Le via col vento. Però non è bello le scaccia. Ah, sì, sì. Oh, continuate a scacciare le mosche. Se no, paparazzi. Ah, a me voglio che me stufa. Sì, Giacobbo mi rompe. Eh beh, c'ha delle cose interessanti. Sì, però, stufa. Mi guarda, una rosa lui mi dà. Una rosa lui mi dà. Una rosa lui mi dà. Sì, ok. Sì, ok. Sì. 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 Buongiorno! 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 Buongiorno!